Ok ragazzi, eccoci tornati con Venom dalla Sedenza per commentare gli incassi del weekend del film che è un dato che ci può interessare per capire se la Sony potrebbe ancora continuare su questa folle strada percorsa finora oppure cambiare un po' tutto Dunque l'incasso del weekend è stato nel totale nel mondo di 175 milioni di dollari un incasso che alla fine è rientrato nelle previsioni L'incasso minore però che ha fatto sotto le previsioni è stato quello nazionale cioè in America ha guadagnato solo 51 milioni di dollari quindi in America si aspettavano di fare un po' di più mentre nell'incasso complessivo diciamo che 175 milioni era un po' la previsione quindi possiamo dire che è stato un buon incasso finora sì, cioè vista le previsioni la fine 175 milioni non è un incasso della Madonna ma chiaramente se paragonato ai film precedenti come Morbius e Madame Web Morbius e Madame Web manco in un mese hanno fatto sti soldi quindi è un buon inizio da capire adesso come proseguirà da capire come sarà il passaparola del pubblico perché comunque mi pare di capire che alla fine ci si divide moltissimo tra chi il film l'ha odiato e chi invece l'ha apprezzato ragazzi a quanto pare questo Venom di Tom Hardy nel complesso è anche piaciuto a una fetta di pubblico non si sa come vabbè, gusti sono gusti fatto sta ragazzi che non è partito malaccio e questo un po' mi preoccupa perché potrebbero proseguire quindi su questa strada cioè potrebbe la Sony essere convinta del fatto che fare un personaggio come Venom simpaticone sia effettivamente la strada giusta certo c'è da dire che rispetto a ogni film uscito di Venom c'è stato sempre un calo maggiore il primo ha guadagnato 800 milioni il secondo 500 adesso questo voglio vedere dove arriverà nelle prossime settimane perché comunque se dovesse fare meno del secondo che già era calato parecchio rispetto al primo cioè per me ragazzi questa non è la strada cioè tralasciando il fatto che la qualità dei film è pessima ma anche gli incassi cioè se gli incassi stanno diminuendo a che cavolo serve proseguire su questa strada per me è una follia totale ragazzi cioè se la Sony vuole veramente continuare a fare così sono dei pazzi perché comunque magari non è un brutto incasso quello che faranno alla fine perché ragazzi hanno già recuperato il budget del film che era di 120 milioni quindi hanno già superato il budget e iniziato a guadagnare qualcosa anche se per vedere i guadagni quelli interessanti bisognerà fare molto di più credo almeno il doppio di quello che hanno fatto finora ma vogliamo veramente proseguire su questa strada cioè veramente la Sony vuole proporci film con questa qualità ancora ragazzi io spero di no poi ricordiamoci che c'è ancora Kraven non è finita ragazzi non è finita qui c'è ancora Kraven che ci aspetta per farci del male ragazzi perché Kraven il pescatore è pronto lì magari questa settimana esce anche un trailer vediamo e anche quella sarà un'altra prova ragazzi perché cioè se la trilogia di Venom è finita su Venom la Sony non ci può più contare perché Venom magari lo vedremo in altri progetti ma come film su Venom hanno finito tecnicamente Kraven ragazzi se fallisce anche Kraven la Sony dovrebbe rendersi conto che fare i film sui cattivi è una cavolata perché Madame Web è andato male Morbius è andato male se va male pure Kraven è un problema ragazzi vuol dire che puntare sui cattivi non è la mossa vincente ma alla fine il discorso ripeto vale anche per Venom perché se Venom ti fa meno del secondo sei in calo sei in calo dal primo film perché vuol dire che il pubblico pian piano si sta disinteressando a questo tipo di prodotti e meno male ragazzi perché la qualità è sempre più scadente nonostante abbia detto che Venom la Sony se vogliamo è anche un po' meglio rispetto ai due precedenti ma parliamo sempre di merda ragazzi cioè se uno fa schifo a 10 l'altro fa schifo a 9 siamo sempre lì ora ragazzi sarà interessante vedere questo weekend perché se questo secondo weekend è già un calo enorme ragazzi questo film non sarà un flop per la Sony perché hanno già recuperato ripeto i costi di produzione però sono in calo sono palesemente in calo non è un'apertura impressionante questa non è che hanno fatto il botto con questo weekend 175 milioni è un inizio così così non è stellare non è tremendo perché ripeto hanno fatto molto peggio di così però se debutti con 175 milioni secondo me secondo me già dal prossimo weekend sei in calo perché comunque ragazzi le recensioni sono tutte molto negative ma ripeto c'è anche un pubblico che effettivamente è apprezzato quindi vediamo se alla fine saranno più diciamo le critiche a farsi sentire e quindi ad avere un calo poi sul box office oppure se sarà il pubblico diciamo più generalista a farla da padrone e a far salire i guadagni di questo film tremendo sono molto molto curioso detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate quanto potrebbe guadagnare ancora Venom da Last Dance se riuscirà a fare di più superare il secondo film il primo ragazzi non ci arriva cioè il primo film 800 milioni scordate non ci arriverà mai 500 milioni già è un po' più abbordabile ma secondo me anche quello non è facilissimo se l'apertura del weekend è stata questa secondo me farà un po' di fatica perché in America non mi sembra che abbia fatto impazzire quindi vedremo fatemi sapere la vostra iscrivetevi noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti